io non me ne torno fin quando noi non parliamo perché non sono come te che si fa passare le cose vuoi sapere qual è il problema vero? che tu nella tua testa hai l'idea che io stia facendo tutto per finta questo è il problema esatto esatto quindi la cosa mi dovrebbe briciare a dire io sono interessato a te visto che io mi repito vero? allora devo fare il cagnolino vero? no che cagnolino da me che vuol dire ma se c'ho qualcosa che non va devo venire ti devo dire che tu sei interessato alla persona perché io sono qua? perché volevo fare il cagnolino perché volevo venire in un albergo da te una volta mi arrivi una volta non mi arrivi mi dico aspe ma io voglio crederlo perché se mi sta dicendo queste cose è perché veramente le pensa però poi torno a casa e dico ma siamo sicuri che Luca è interessato veramente a me come il problema mio è anche un problema tuo perché evidentemente sei tu che non mi arrivi ma fare venire in ginocchio a dirti le cose no che voglio che tu mi dici le cose che senti che è diverso non te l'ho detto solamente il camerino non c'eri perché subito sei fuggito perché tanto di Angela chi se ne frega bravo ce ne andiamo vedi le cose spontanee brava